Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Appalti pilotati all'Erap di Pesaro, perquisizioni e sequestri all'alba della Guardia di Finanza denunciate a otto persone, tra cui tre dirigenti dell'ente pubblico I ladri entrano in una villetta nelle campagne di Fano per la terza volta, ma niente bottino e molti danni Polveri sottili, la Lega chiede di annullare lo stop alle auto previsto per domenica prossima a Fano Atto vandalico contro un'azienda agricola di Serra dei Conti, tagliate nella notte 250 piante di visciola alla famiglia Cardinale, una cattivera inaudita Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Benvenuti, buonasera Allora, apriamo con l'indagine della Guardia di Finanza di Pesaro che ha portato questa mattina all'alba a numerose perquisizioni e sequestri nel Pesarese e anche a Casoria, in provincia di Napoli L'operazione si chiama Lavori in Corso e riguarda presunti appalti pilotati all'Erap di Pesaro È scattata alle prime luci dell'alba, secondo le più canoniche regole del caso una fase cruciale dell'operazione Lavori in Corso della Guardia di Finanza I finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro hanno eseguito perquisizioni e sequestri su provvedimento delle procure di Pesaro ed Urbino in uffici e domicili privati e studi professionali per ipotesi di reato ai danni della pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali e da imprenditori ai danni dell'Erap Al momento sono state denunciate otto persone tra cui tre dirigenti pubblici dell'ente regionale e abitazione pubblica delle Marche per abuso d'ufficio, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici turbata libertà di scelta del contraente e induzione a dare o promettere utilità Con le due procure stiamo lavorando, con la procura di Urbino e con la procura di Pesaro stiamo lavorando in modo molto vantaggioso, molto produttivo per affrontare tante di queste vicende che inquinano in un certo modo la pubblica amministrazione, la concorrenza tra imprenditori e ovviamente minano la pubblica udità in generale Perquisite le abitazioni private dei soggetti indagati cinque sedi aziendali, uno studio professionale e gli uffici di due dirigenti dell'Erap alla sede di Pesaro, in Viale Bramante ed anche un cantiere nel cuore del centro storico ma anche a Fano, Colli al Metauro, Serra Sant'Abbondio e Casoria in provincia di Napoli L'indagine era partita nell'autunno del 2018 prendendo sviluppo da un esposto proprio di un dirigente dello stesso Erap insospettito da alcune pratiche ed atti pubblici poco chiari il tutto per tutelare l'immagine dello stesso istituto segnalando così alle fiamme gialle presunte condotte illecite messe in atto da alcuni suoi colleghi su procedure d'appalto e gestione dei lavori pubblici indagini lunghe e articolate per le complesse procedure di gara e la necessità di svolgere anche analisi tecniche seguendo la progressione e l'avanzamento dei lavori di alcuni cantieri monitorati durante l'indagine Le indagini hanno messo alla luce così gravi violazioni normative in materia di appalti commesse dai dirigenti dell'Erap che avevano stretti legami con i titolari delle imprese coinvolte favorendoli a discapito dell'ente pubblico Un reatto quello ai danni della pubblica amministrazione che ha delle implicazioni non solo giuridiche ma anche morali perché tocca gli interessi di tutti i cittadini Tutti noi abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione che funzioni rispettando le regole e senza questi scantolamenti che purtroppo a volte rendono meno la fiducia del cittadino nelle istituzioni in generale Importavano dalla Turchia capi d'abbigliamento griffati i contraffatti li vendevano a importanti boutique dove venivano acquistati da ignari clienti La Guardia di Finanza di Ancona ha stroncato un maxi commercio in 12 regioni d'Italia L'operazione Spider Web è nata controllando la rete internet siti e piattaforme di vendita alle quali si sarebbero rivolti i negozianti secondo le fiamme gialle tutti consapevoli di acquistare griff tarroccate L'indagine durata sei mesi è stroncata prima che prendesse dimensioni più grandi ha portato a 35 denunciati tra cui moglie e marito residenti a Osimo lei rumena, lui osimano di 43 e 44 anni sono accusati di ricettazione e commercializzazione di prodotti falsi sequestrati 15 mila capi falsamente filmati che avrebbero fruttato oltre 4 milioni e mezzo di euro Nelle campagne di Fano siamo nei pressi di Centinarola l'ennesimo furto in una villetta di campagna il proprietario esasperato ha persino ironizzato con un cartello affisso alla porta d'ingresso hanno agito in pieno giorno indisturbati i quattro individui travisati in volto vestiti di scuro e con fare professionale che alle 10.30 di questa mattina si sono introdotti in un'abitazione nelle campagne sopra Centinarola pensavano di fare un colpaccio uno che faceva il palo fuori e tre invece che mettevano sotto sopra gli ambienti di quello che in realtà non è altro che un posto dove il proprietario fa cene con la famiglia o gli amici dove passa un po' di tempo fuori dall'orario di lavoro e quindi che mai ci potrà essere pasta, olio, acqua minerale un po' di masserizie pertanto sono più i danni arrecati alla struttura al cancello d'ingresso forzato e agli ingressi che il resto è considerata la frequenza con cui queste visite si verificano mentre nel giro di poco tempo il proprietario ha anche pensato di mettere un cartello proprio indirizzato a loro le immagini della telecamera interna li vede all'opera dove aver percorso a piedi il vialetto di Breccino che porta al cancello d'ingresso darsi un grande affare all'interno fiondandosi in tre nel bagno e poi aprire armadietti dove altro non hanno trovato che buona pasta da cucinare scatolo in legno con carte da gioco e una porta del magazzino dove c'era ricoverato l'acqua e il vino e dulcis in fundo spostano anche un quadro alla ricerca probabilmente del loro principale obiettivo una cassaforte fosse pensando che la struttura di proprietà di un professionista fanese ne fosse dotata e piena di oggetti di valore ma della cassaforte in realtà nemmeno l'ombra solo merendine per la colazione e come sono arrivati così se ne sono andati ora sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Fano a cui sono state anche affidate le immagini registrate il 6 febbraio a Palazzo delle Marche si terrà una riunione un tavolo regionale sull'acquisizione del gruppo Ocean da parte di Conad il confronto tra la proprietà e la rappresentanza dei sindacati è stato organizzato dal presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mastro Vincenzo che sta seguendo al Ministero a Roma un po' tutta la trattativa e la vicenda l'obiettivo è quello di garantire la rete di vendita e la tutela dei livelli occupazionali ieri in Consiglio Comunale a Fano ci sono state diverse interrogazioni e mozioni tra cui dicevo in Olfi il digestore anaerobico ma anche il blocco delle auto durante le cosiddette domeniche ecologiche e la Lega oggi torna alla carica chiedendo al Comune chiedendo alla Giunta di eliminare abolire la prossima domenica ecologica ieri durante il Consiglio Comunale abbiamo chiesto come gruppo Lega con interrogazione orale urgente di rievocare immediatamente l'ordinanza delle limitazioni del traffico per domenica purtroppo il sindaco ha preferito non rispondere quindi ancora una volta rimaniamo basiti al comportamento perché visti i danni che hanno procurato a commercianti esercenti residenti di tutto il centro storico e anche delle zone limitrofe perché abbiamo visto che il traffico si è condensato in tutte le zone perimetrali noi abbiamo chiesto la revoca di questa ordinanza e se non verrà revocata siamo costretti a chiedere le dimissioni di Mascarin perché un assessore all'ambiente sa benissimo che queste azioni sono completamente inutili il traffico veicolare rappresenta il 20% delle emissioni di polveri sottili in questi giorni quindi lunedì e martedì dove l'ordinanza non era presente le polveri sono drasticamente scese sotto il livello minimo addirittura ieri il minimo da gennaio di questo anno quindi sappiamo benissimo che queste azioni non servono a niente se non per un mero spot elettorale quindi chiediamo la revoca e come in modo molto simpatico apprezziamo che Ricci il sindaco di Pesaro abbia praticamente preso tutte le proposte che noi abbiamo contenuto in una mozione e le ha trasformate in un'ordinanza in cui limita il riscaldamento domestico che rappresenta il 40% delle polveri sottili e propone il lavaggio delle strade vicino alle abitazioni dove c'è la centralina di Pesaro Pesaro fa questo e noi come sempre fanno dobbiamo danneggiare le persone che lavorano e che abitano il centro storico Per quanto riguarda l'apertura della guinza invece è in discussione un progetto che prevede l'utilizzo della galleria con un senso unico di marcia la commissione si deve adesso esprimere un parere sugli aspetti relativi alla sicurezza e lo farà il prossimo 31 gennaio 2020 questo è quanto dichiarato dal Movimento 5 Stelle in particolare da Mauro Coltorti presidente della commissione lavori pubblici del senato la commissione gallerie sta appunto valutando questa ipotesi di riaprire dunque la Fano Grosseto quel tratto di galleria che è chiusa lì ormai da decenni e di aprirla ha senso aprire solo una galleria però sarebbe già qualcosa e adesso invece parliamo torniamo a parlare di potature a Fano perché dopo il botta risposta tra l'associazione ambientalista lupus in fabula e ASET che ha il compito appunto di effettuare le potature nel comune di Fano ora c'è un esperto che abbiamo interpellato che ci ha dato oggi un suo parere autorevole e ve lo facciamo ascoltare Lorenzo di potatura e lo metto tra virgolette perché non si tratta di potatura ma di un'altra cosa che ASET ha fatto ma sono sbagliati ed è provato scientificamente da un sacco di istituti di ricerca e di formazione e divulgazione sull'albero a livello anche nazionale e internazionale quindi è solo per veramente chiudere e dire la verità scientifica è un'altra sugli alberi non si opera in questo modo qui perché questo tipo di interventi deprime l'albero da ogni punto di vista sia estetico che funzionale che economico per tutta la cittadinanza diciamo che è un discorso più che altro culturale oltre che pratico ci vorrebbe una cultura diversa di approccio all'albero e al verde pubblico assolutamente sì perché l'albero anche se adesso sembrano degli appendi abiti mi viene da dire però l'albero è un essere vivente ed è estremamente complesso in realtà si parla di sistema ma sistema non solo di albero ma di sistema a livello urbano di verde urbano andrebbe cambiato l'approccio dal punto di vista culturale perché è chiaro che le cose non si cambiano dall'oggi al domani ci vuole tempo perché poi gli alberi danno le risposte in tempi lunghi che bypassano 5-10 anni sono tempi molto più lunghi gli alberi non sono pericolosi sono pericolosi i cattivi interventi i cattivi progetti di gestione degli alberi o di progettazione del verde urbano questo tipo di interventi non deprime solo l'albero ma deprime anche noi operatori che cerchiamo di alzare un po' questo spazio per proporre proprio per chiedere non quanto una mia collaborazione ma un tavolo tecnico l'istituzione di un tavolo tecnico dove Aset, il comune qui con l'ufficio del verde per poter guardare veramente lontano e far diventare Fano una città che possa pregiarsi di un verde pubblico ben fatto che va a vantaggio di tutti E sono 250 le piante di visciola tagliate da ignoti da vandali in un'azienda di Serra dei Conti le cantine del Cardinale L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio scorsi ma i titolari la famiglia Cardinali non sanno dire con esattezza il momento del blitz che dalla realtà serrana non esitano a deferire mafioso il terreno su cui crescevano le piante circa un ettaro si trova sulla strada provinciale 44 che collega Serra dei Conti con Monte Carotto ma non si vede praticamente dalla strada dalla via una circostanza che forse ha permesso agli autori del raid di agire indisturbati già dal tardo pomeriggio per i proprietari si è trattato di una cattiveria inaudita Torniamo in Viale Gramsci dove poco fa vi abbiamo fatto vedere l'intervento di quell'esperto di alberi e di potature perché in Viale Gramsci tra pochi giorni inizierà il carnevale e sono iniziati è iniziato il montaggio delle tribune quando su Viale Gramsci appaiono loro si incomincia a respirare aria di carnevale stiamo parlando delle tribune che già da questa mattina sono al montaggio lungo quello che nelle domeniche del 9, 16 e 23 febbraio si trasformerà nel viale più allegro e colorato di Italia per avere la certezza di partecipare alle sfilate però e non rischiare di rimanere fuori ricordiamo che il limite massimo è di 14.425 persone o anche semplicemente per evitare code e disagi alle casse l'ente carnevalesca ricorda che si può già acquistare il proprio biglietto sul sito www.carnevaledifano.com nell'apposita sezione che rimanda al sito di Viva Ticket il prezzo d'ingresso è sempre di 10 euro se lo si acquista online o 12 alle casse ai varchi lungo il percorso cosa sconsigliata dall'organizzazione per evitare il più possibile di creare ingorghi e code agli ingressi e per non rischiare ovviamente di rimanere fuori previste riduzioni per disabili minorenni ultra 65 anni e gruppi di almeno 25 persone i possessori poi della tessera dell'ente carnevalesca e gli accompagnatori di disabili e bambini sotto i 140 centimetri potranno acquistare il ticket d'ingresso al costo solo di 1 euro al via anche le vendite per una delle 56 tribune box dislocate lungo il viale sulle quali potranno salire un massimo di 15 persone e per accedere alle tribune A e B che contengono 180 e 100 persone per chi accede alle tribune box c'è il diritto a partecipare all'ormai storico concorso per la miglior mascherata che quest'anno prevede tanti ricchi premi per i primi tre classificati inoltre per chi vuole sostenere il carnevale più antico d'Italia continua anche il tesseramento all'ente carnevalesca al costo di soli 10 euro e potrà quindi partecipare anche alle assemblee esprimere il proprio parere e votare quando ce ne sarà bisogno Nicoletta Grifoni è la nuova caporedatrice del TGR Rai Marche succede a Maurizio Blasi alla Grifoni gli auguri di buon lavoro dal presidente della regione Luca Ceriscioli e dal presidente Corecom Cesare Carnaroli e ci mettiamo ovviamente anche i nostri grazie per averci seguito questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale l'appuntamento con l'informazione è per domani mattina alle 7 con la rassegna stampa arrivederci